Ben ritrovati, tante diverse le notizie che troverete all'interno del nostro TGI, ma andiamo per ordine, cominciamo col sommario. La donna operata d'urgenza a Reggio è grave, il suocero che le ha sparato è stato arrestato, la lite nella tarda mattinata di oggi a Gioia Tauro. Grande manifestazione a Cosenza per urlare il no, forte e convinto contro l'autonomia differenziata, sindaci in prima linea, presente anche il Vescovo Checchinato. Partiti e movimenti a lavoro per definire accordi e strategie, quasi definito il quadro delle candidature a Montalto, anche per Corigliano e Rossano è quasi fatta. Si chiama Pensatù, l'iniziativa aggiunta alla terza edizione che ha portato a rende studiosi da tutta Italia per un confronto sui temi della scienza, fisica e intelligenza artificiale. Lo storico capitano dell'Inter, Zanetti, in Calabria, per una serie di iniziative ha incontrato all'Università della Calabria e gli studenti a Ulamagna a Gremita per il racconto del campione. Fermo il calcio giocato, il centrale difensivo del Cosenza, Michele Camporese, ha incontrato la stampa e nel corso dell'incontro con i giornalisti ha parlato dell'importanza che riveste la gara del lunedì di Pasquetta con il Brescia. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro Tg in primo piano, la cronaca litiga con la nuora L Spar, è accaduto nella tarda, mattinata di oggi a Gioia Tauro. Lei è ricoverata in ospedale a Reggio Calabria in gravi condizioni, lui un 84enne, il suocero un 84enne è stato arrestato. Partiamo da qui. È ricoverata nel grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria la donna ferita dal suocero nella tarda mattinata di oggi a Gioia Tauro. La vittima, 42 anni, è stata subito operata, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, 84 anni, le ha sparato due colpi di pistola, poi si è costituito alla polizia ed è stato arrestato. La donna era stapportata in un primo momento al pronto soccorso di Gioia Tauro da un conoscente. Aveva una ferita d'arma da fuoco al torace e una gamba. Vista la gravità, i medici hanno deciso di trasferirla al GOM della città dello Stretto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dal PM della procura di Palmi e Elio Romano, il fatto è accaduto nell'appartamento dove la donna di origini tunisine vive con il marito. Tra la donna e la famiglia di lui, negli ultimi tempi i rapporti sarebbero stati tesi. Stamani il suocero, secondo la prima ricostruzione, si è presentato a casa del figlio chiedendo di vedere i due nipotini e al diniego della donna è entrato in casa e ha sparato. Ma oggi è stata la giornata del corteo contro l'autonomia differenziata a Cosenza, no alla riforma che spaccherebbe il paese un migliaio di manifestanti in piazza a Cosenza proprio per dire no al DDL Calderò. I cittadini pagheranno un prezzo altissimo, è stato detto la sanità, l'ambito più penalizzato. Vediamo. Oggi siamo in piazza contro l'autonomia differenziata, una lotta sacrosanta. Sono stati oltre un migliaio a Cosenza, fra sindacati, associazioni, partiti, movimenti e cittadini, a dire no all'autonomia differenziata. Una riforma che, secondo i manifestanti, rischia di spaccare in due il paese e che penalizzerebbe soprattutto il mezzogiorno. Un no senza se e senza ma, perché il finanziamento degli ormai famosi LEP sembra essere impossibile. C'è solo da dire con molta fermezza no, perché questa legge creerà ulteriori danni al mezzogiorno d'Italia e soprattutto ad una regione debole come la nostra. Non esiste neanche un euro nella legge Calderoli che vada a finanziare i livelli essenziali di prestazione. Quindi il governo Meloni mente sapendo di mentire e prende in giro gli italiani e le italiane, soprattutto i cittadini delle regioni del mezzogiorno. Un processo che porterà un complessivo impoverimento ai settori popolari e al mondo del lavoro. I cittadini calabresi, medidionali, ma anche tanti cittadini del nord, quelli delle regioni meno forti economicamente pagheranno un prezzo altissimo in termini di servizi sanitari, di istruzione, di energia. Non è casuale, segnalo soltanto questa cosa, come la federazione nazionale degli ordini dei medici, quindi tutti i medici di tutte le regioni rappresentati nella federazione siano contrari all'autonomia differenziata perché creerebbe una discrepanza per quanto riguarda il diritto alla salute dei cittadini italiani e quelli del meridione sarebbero particolarmente penalizzati. Sanità in primis, ma anche istruzioni, infrastrutture ed altro, ma dai rappresentanti all'opposizione partono in vita i colleghi calabresi del centrodestra. Hanno tradito il mandato dato loro dagli elettori calabresi. Hanno votato per ragioni di appartenenza e di partito. non c'è nessuna ragione politica, nessuna ragione economica che possa far ritenere che un disegno di legge così divisivo e penalizzante possa essere utile per il nostro territorio. Parliamo di amministrative, cominciamo da Montalto Uffugo. Partiti e movimenti delineano le strategie in vista del voto. Cinque i candidati sindaco nel centro della media valle del Crati. Vediamo. Si delinea il quadro dei candidati a sindaco di Montalto Uffugo, centro dell'Interlanda Cosentino. È uno dei quattro comuni interessati alla tornata amministrativa dell'8 e del 9 giugno con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e dove ciò è previsto l'eventuale turno di ballottaggio. Al momento sono cinque gli aspiranti primi cittadini del popoloso comune che conta oltre 20.000 residenti. L'ultimo, in ordine di tempo a sciogliere le riserve, è stato il dottor Luigi Formoso, sostenuto dalla maggioranza uscente e dal partito democratico. Formoso, stimato oculista ed ex consigliere comunale di Palazzo dei Bruzzi, rappresenterà dunque la coalizione Patto Civico Governo e Futuro. Ancora più a sinistra la proposta dell'ex segretario della CGL e della direzione nazionale del sindacato, Emilio Biafora, che dopo non aver incassato l'auspicato sostegno del Partito Democratico, ha deciso di scendere in campo con il sostegno della coalizione Uniti per un'altra storia. Si candida a sindaco anche l'ex assessore della Giunta Caraccio, l'attuale commissario cittadino di Forza Italia, Biagio Faragalli, che incassa il sostegno anche di Graziano di Natale, oltre che di sette liste civiche, senza il simbolo però di Forza Italia. Il primo invece a ufficializzare la sua candidatura è stato Mauro Dacri, imprenditore agricolo ed ex delegato all'agricoltura nell'Aggiunto Oliverio, a sostenere la sua corsa alla carica di primo cittadino, otto liste. Nella competizione elettorale di Montalto Fugo ci sarà anche un candidato espressione di Italia del Meridione. Si tratta di Antonio Brogno, 35 anni, segretario del ciclo cittadino, sostenuto da tre liste. I giochi però non sono ancora fatti perché il tempo a disposizione per i partiti c'è, ma difficilmente lo scenario già disegnato subirà stravolgimenti. Sempre per le amministrative, partiti e movimenti sono al lavoro per definire accordi e strategie anche a Corigliano Rossano, dove manca davvero pochissimo per l'accordo nel centro-sinistra. Vediamo. In politica si dice spesso che occorre aspettare, in gergo consumare i passaggi, prima di sancire un accordo elettorale. E' quanto sta avvenendo a Corigliano Rossano fra il sindaco uscente Flavio Stasi e il Partito Democratico. Sembrava fatta per l'accordo, ma il PD ha chiesto al primo cittadino di pazientare ancora un po'. A dire il vero però, lo stesso Stasi non ha accelerato, anche da parte sua insomma, la cautela e l'atteggiamento scelto. Ambienti vicini alla direzione provinciale del PD fanno sapere che nei prossimi giorni sono state programmate due riunioni, dalle quali usciranno le novità che definiranno meglio la situazione. Tutto chiaro invece per la candidata del centro-destra, Pasqualina Straface, la quale, dopo aver ottenuto l'investitura, si muove organizzando iniziative ed incontri per spiegare ai cittadini cosa non ha funzionato nell'amministrazione uscente e quel che ha in animo di intraprendere per la terza città più grande della Calabria. Le amministrative di Corigliano Rossano rappresentano un test assai probante per i partiti in un territorio vasto, economicamente forte, che si candida ad essere polo attrattivo della Calabria ambiziosa. Siamo certi che nel dibattito elettorale i temi legati alla sanità si faranno sentire. Si parlerà molto, infatti, del costruendo un nuovo ospedale della Sibaritide. Non è escluso che, proprio per le peculiarità insite in questa competizione, la città sarà attenzionata dai vertici nazionali delle forze politiche. Tra qualche giorno, quando il quadro elettorale sarà più chiaro, di sicuro si noterà l'attivismo politico dei partiti e dei movimenti. L'inaugurazione di un nuovo intercity che collega Reggio Calabria a Taranto ha fornito un assist al vicepremier Matteo Salvini per parlare di ponte sullo stretto e statale 106. Vediamo. Salvini non aspettava altro che raccontare ai calabresi i frutti del suo lavoro. Ha approfittato dell'inaugurazione del nuovo treno ibrido intercity che collegherà Reggio Calabria a Taranto dal 25 marzo per infilarci dentro il ponte sullo stretto, la statale 106 e qualche incursione, mai esplicitata, nei progetti della Lega, congressi ed elezioni. Il ministro, in buona sostanza, non ha aggiunto grandi cose rispetto a quanto già detto. Ecco, per esempio, cosa dice in risposta alle perplessità espresse alla popolazione delle aree interessate ai cantieri. Nessuna devastazione, nessuna devastazione e si arricchiranno i territori sia sulla sponda calabrese che sulla sponda siciliana. Ci sarà un aumento di lavoro, di turismo, di valore degli immobili, sia pubblici che privati, quindi io penso che sia un'operazione vincente da tutti i punti di vista. La 106 è un argomento sempre attuale. Salvini risponde ai giornalisti snocciolando le cifre impegnate per l'arteria ionica e i progetti per la viabilità calabrese. 3 miliardi, ieri abbiamo bollinato 3 miliardi per la 106, per il tratto Siba di Catanzaro e quindi noi stiamo investendo circa 30 miliardi su strade, autostrade e ferrovie in Calabria ed altrettanti in Sicilia ed è un investimento che non c'è mai stato negli ultimi decenni né in Calabria né in Sicilia, conto di arrivare alla fine del mio mandato ma i cantieri per questo tratto che abbiamo finanziato con 3 miliardi aprono nei prossimi mesi, quindi questo 2024. Poi è chiaro che occorre completarlo, c'è il tratto Reggino, conto di arrivare alla fine del mio mandato avendo completato progettazioni, finanziamento, progettazioni anche dell'alta velocità tra Salerno e Reggio che oggi non c'è. Ma ecco il protagonista della giornata, il primo dei sette convogli intercity di Trenitalia che collegheranno Calabria, Basilicata e Puglia realizzato dai Taci Rail. Dal 9 giugno si completeranno le tratte collegando anche Bari e Lecce. Il nuovo treno, composto da quattro carrozze per un totale di 200 posti, sostituirà i vecchi convogli in circolazione. Un tavolo tecnico convocato in prefettura Vibo per parlare delle arterie viarie e in particolare della trasversale delle serre. Vediamo. La trasversale delle serre è al centro delle attività del tavolo tecnico convocato in prefettura Vibo per dettagliare lo stato della rete viaria del territorio vibonese lungo le strade statali, provinciali e comunali. All'incontro presieduto dal prefetto Paolo Giovanni Greco hanno preso parte anche il questore di Vibo, il presidente della provincia, oltre al responsabile dell'area gestione e rete struttura dell'ANAS Calabria, i rappresentanti del comitato 25 giugno, i sindaci e i rappresentanti dei comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Pizzoni, Polia, Serra San Bruno, Sorianello, Spadola, Vazzano, Vibo, oltre alle forze dell'ordine competenti per territorio. La riunione è convocata per delineare un focus nell'ottica di un efficiente, pronta sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Sono 5,2 milioni di euro le risorse investite in interventi già eseguiti negli ultimi tre anni, 6,8 milioni di euro oggi in corso e 14 milioni in progettazione nel 2024. A tenere banco la questione relativa ai lavori di completamento della trasversale delle serre che procedono nel pieno rispetto del cronoprogramma. Nel confronto è emersa inoltre l'esigenza di risolvere la questione inerente e l'abbandono dei rifiuti, anche mediante l'installazione di fototrappole, soprattutto per le strade che conducono agli insediamenti costieri. Ha resistito alle fiamme e adesso ai colpi d'arma da fuoco. Un autovelox posto sulla statale 18 nel territorio di Palmi, preso di mira da chi vorrebbe metterlo fuori uso, continua a funzionare e a segnalare gli eccessi di velocità degli automobilisti. L'amministrazione comunale chiaramente condanna questi gesti. Vediamo. Prima dato alle fiamme, adesso crivellato di colpi d'arma da fuoco. Non c'è pace per l'autovelox collocato dal comune di Palmi lungo la statale 18 in località San Filippo. Si tratta di un'apparecchiatura di tipo bidirezionale utilizzata per verificare la velocità dei veicoli in transito installata nel 2023. Lo strumento è stato danneggiato da ignoti. Lo hanno colpito con una trentina di proiettili sparati ad altezza Duomo. I proiettili non hanno comunque danneggiato le telecamere di controllo e l'autovelox risulta funzionante. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Palmi, i carabinieri della polizia. L'autovelox era stato già danneggiato alcuni mesi fa da un incendio. L'apparecchio è da tempo contestato dalla cittadinanza per via delle numerose sanzioni amministrative elevate. Non ci faremo intimidire e andremo avanti per la nostra strada, sottolineato sui social, il presidente del Consiglio Comunale Francesco Cardone. Ovviamente sempre pronti e disponibili, ha aggiunto, ad avviare un contraddittorio sulle scelte e sulle ragioni di affondamento delle stesse, ma solo nelle sedi competenti. Al via oggi arrende la terza edizione del Festival della Scienza e della Curiosità. Tanti stand espositivi, convegni e dibattiti con iniziative per grandi e soprattutto bambini. Un percorso che mostra l'evoluzione e i progressi scientifici a cui accostarsi con occhio curioso. Vediamo. Dal Rino Ceronte Lanoso a Invisore di Realtà Aumentata e alle Costellazioni, un bel salto temporale e spaziale in cui si immergono i piccoli e grandi visitatori del Festival della Curiosità e della Scienza Rende. Evento, iniziato oggi, che si concluderà martedì nella città a pochi chilometri da Cosenza. Emblematico il titolo, Pensa tu, proprio per sollecitare gli utenti ad avvicinarsi alla conoscenza scientifica, alla fisica, all'intelligenza artificiale e a tutte le tematiche connesse, senza ritrosia. Il nostro pubblico è composto sicuramente da universitari e ragazzi, ma anche e soprattutto da famiglie che affollano la struttura e quindi hanno modo di interagire con i vari espositori e con tutte le attrazioni presenti. Siamo arrivati alla terza edizione che si prospetta un grande successo. L'edizione di quest'anno si dedica molto al mondo dei mari, l'intelligenza artificiale, che è un argomento importante di questi tempi. E tra la monna Lisa che si racconta il microscopio per esaminare la sabbia e i telescopi evoluti per guardare oltre lo spazio, si alimenta la curiosità. Nei bambini ancora vedo quella curiosità che serve per fare questo tipo di mestiere. Purtroppo andando avanti nell'età questa curiosità viene un po' meno, quindi gli adulti devono essere bravi a fare in modo che la tengano viva. Noi vogliamo promuovere lo studio delle discipline scientifiche in generale e poi perché no anche le discipline in ambito ingegneristico. Quello che cerchiamo di offrire ai nostri laureati è, pur rimanendo in Calabria, la possibilità di sognare in grande e raggiungere qualunque meta. Siamo allo sport ma cominciamo con una leggenda del calcio. Lo storico capitano dell'Inter, Zanetti, nella nostra regione per una serie di iniziative ha incontrato gli studenti all'Università della Calabria. Vediamo. Un capitano, c'è solo un capitano! I cori in casi come questi scattano in fretta ed anche una universitaria si può trasformare in un qualcosa di simile a uno stadio. L'arrivo di Javier Zanetti all'Università della Calabria è stato salutato così dagli studenti tifosi. Il vicepresidente all'Inter, per i supporter nerazzurri, il capitano, non si è certamente sottratto all'abbraccio dei tifosi ed anzi ha anche diretto i cori. Personaggio di quelli che vanno oltre il colore di una maglia, mai divisivo come purtroppo ce ne sono tanti, ma apprezzato anche da tifosi avversari. Zanetti è stato all'Università della Calabria per prendere parte a un incontro sui temi dello sport, della solidarietà e dell'amicizia. Questa mattina sono andato a vedere mio figlio che partecipava a un torneo con altre due squadre e sinceramente vedere la loro felicità correndo dietro un pallone mi fa tornare bambino anche a me. Con lui però non si può non parlare di Inter, una squadra che sta dominando il campionato ma ferita dall'eliminazione in Champions. Felicissimo per il percorso che stiamo facendo, vedo una grande squadra che sta giocando un grandissimo calcio, lo sta dimostrando in ogni partita, siamo stati sempre competitivi al di là del risultato a prescindere e credo che questa sia la cosa più importante. Non è da adesso, ci sono 4-5 anni che l'Inter si dimostra sempre l'altezza di ogni competizione. Con lo scudetto in tasca si pensa al mercato e ai rinnovi ma per Zanetti non ci sarà alcun problema sotto questo punto di vista. Tutti questi giocatori che fanno parte dell'Inter hanno voglia di continuare con noi e credo che sicuramente vedendo gli impegni che avremo anche nella prossima stagione tutti saremo contenti che loro rimangano a far parte della nostra famiglia e noi saremo contenti di che possano essere con noi. Il calcio di serie B, il calcio giocato, ieri l'allenamento a porte aperte, oggi la conferenza stampa di Michele Camporese e il Cosenza prepara la sfida in programma il lunedì dell'Angelo quando ospiterà il Brescia. Il difensore dei Lupi spinge il gruppo a un cambiamento di rotta, vediamo. La cosa più importante è che bisogna sapere che deve essere una partita da vincere e proprio per la nostra situazione di classifica, per il morale e per riprendere la strada che ora è già qualche partita che non abbiamo più intrapreso che è quella di tornare alla vittoria. Alle idee chiare il Cosenza contro il Brescia nella sfida di Pasquetta serve tornare al successo per centrare l'obiettivo primario e cioè la salvezza. Michele Camporese che è tornato a vestire la casacca rosso-blu dopo il mercato di gennaio suona la carica, arrestano otto gare al termine della stagione regolare, ipoteticamente ci sono 24 punti in palio, ne servono almeno 10 per mettersi al sicuro, visto che la quota salvezza quest'anno dovrebbe essere 43-44 punti. Come vedo questo gruppo per qualità lo potrei vedere che può aspirare anche a qualcosa di più. È normale che oggi se si pensa così si sbaglia tutti. Oggi l'obiettivo si deve essere quello di fare almeno 10 punti in otto partite per cercare di raggiungere una salvezza. Poi la linea è sottile da salvarsi e entra nei play-off. È veramente sottile perché a volte basta un episodio dove ti prendi coraggio e fai la vittoria che ti serve per scavallare due o tre squadre. Però guardiamo una partita alla volta. Ora c'è Brescia che deve essere per noi la prima finale delle otto e cercare di portare il risultato pieno nella partita di Brescia. Poi vediamo piano piano. Non si fanno drammi in Casa Rosso Bluanzi. Con il nuovo tecnico Viali si lavora per farsi trovare pronti alla ripresa del campionato. Altri nove giorni di allenamenti e poi si capirà se questa nuova fase preparatoria darà i frutti sperati in vista del rush finale. Intanto ieri i lupi hanno riabbracciato i tifosi che hanno seguito gli allenamenti a porte aperte dagli spalti del Real Cosenza. Non erano in gruppo Gennaro Tutino e Francesco Forte che hanno effettuato lavoro differenziato. Oggi invece il numero 10 Rosso Blu è tornato ad allenarsi con la squadra realizzando tre reti nell'amichevole con la primavera. Dopo Baldini toccherà Lamberto Zauli che torna per la terza volta sulla panchina del Crotone risollevare le sorti del gruppo Rosso Blu e centrare l'obiettivo playoff. Vediamo. Io invece sull'orgoglio di questi ragazzi e sulle qualità di questi ragazzi sarò un pazzo ma io ci credo e non sono un pazzo perché siamo stati a sei punti da un primo posto e quindi io le qualità a queste squadre la vedo. Sono cosciente di una difficoltà delle ultime partite ma non parlo delle ultime partite soltanto la gestione di mister Baldini e abbiamo cominciato a non vincere anche già quando c'ero io quindi parlo di un periodo un po' più lungo e quindi io sono concentrato a cercare di ottenere una posizione playoff. Inizia il nuovo Zauli Ter, sei gare per dimostrare ancora una volta che il Crotone si può giocare i playoff dopo la parentesi Baldini. In casa Rosso Blu parte una nuova fase e Zauli ci tiene a chiarire cosa non ha funzionato. La squadra non ha giocato con me, la squadra ha perso, ha giocato e ha perso. A volte ha giocato e ha vinto, altre volte ha giocato e ha pareggiato perché questo è. Poi entriamo nelle discorsi tec, perché abbiamo pareggiato, perché abbiamo... Però si parla di calcio, non si parla di rapporti, se no io da fuori l'ho vista come un'offesa. Se perdo io è perché l'allenatore è scarso, successivamente è perché i giocatori. Il discorso che abbiamo fatto, noi ci siamo confrontati molto da quando sono tornato, cioè basta la colpa a qualcuno. Qual è il gioco? Se un giocatore sbaglia il gol davanti alla porta, fa parte del gioco, perché se facesse gol tutte le volte è finito il gioco. Quindi fa parte. Il mio esonero, tutti associano il mio esonero al presidente Gianni Vrenna e invece lui è schierato con me. Allora, il presidente Gianni Vrenna per me mi ha esonerato dopo tanto perché probabilmente in quel momento avrà valutato che voleva migliorare la situazione. Poi, giusto, sbagliato, è sempre il tempo che lo dice, ma sicuramente, sicuramente il presidente quella sera lì è stato spinto da una cosa positiva per la squadra o negativa, non ci voglio credere. Quindi positiva. Quindi non sta a me, e sto parlando del diretto interessato, quindi il ferito della storia, ma mi piace pensare che lo ha fatto per. Quindi io torno, non per una rivincita contro il presidente, io gioco per una rivincita per me stesso. Ed è davvero tutto. Ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. Grazie al reggia Michele Cava e messi in onda a Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon fine settimana.